I poliziotti erano intervenuti per la segnalazione di una rissa in pieno centro storico a Montevarchi, ma quando sono arrivati in piazza Vittorio Veneto hanno trovato solamente un giovane in evidente stato di ebrezza che li ha aggrediti. È successo lo scorso giovedì, l'uomo, trentenne senegalese, residente presso la sede di un'associazione Ollus di loro ciuffenna, ma di fatto domiciliato a Montevarchi e conosciuto alle forze dell'ordine si è dimostrato sin da subito ostile, rifiutandosi di dare le proprie generalità e di indossare la mascherina di protezione di cui ne era sprovvisto. I poliziotti così hanno deciso di accompagnare l'uomo presso gli uffici di polizia, ma il trentenne ha reagito violentemente ed oltre alle minacce ed ingiurie ha iniziato a sferrare calcio e pugni verso gli agenti che una volta terminati l'intervento sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il trentenne, non senza difficoltà, è stato accompagnato in commissariato e tratto in arresto per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, al momento privo di permesso di soggiorno, è stato anche sanzionato per stato di ebrezza alcolica per aver disatteso la normativa anti-covid. Il giudice adesso ha confermato la misura dell'arresto e ha disposto nei confronti del trentenne l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.